Senti, vorrei chiederti una cosa. Di che si tratta? Ecco, i miei amici vanno in campeggio e... vorrei andarci anch'io. Posso, mamma? No, Lucy, non credo che sia una buona idea. Dai, non è giusto! Ti prego, mamma! Cerca di capire, voglio solo proteggerti. Vado a casa a piedi. Lucy, aspetta. Lucy! Lucy! Allora? Che ne pensi? Tess? Hai preso le pillole. Ansia, depressione, disturbi del comportamento, allucinazioni. Ha passato tutta la vita entrando e uscendo dagli ospedali. E' stato come se qualcuno ti avesse spinto a terra e non riuscissi a muoverti. Quel rumore... Lasciami in pace! Che tipo di rumore? Ti prego, basta! Ti prego! Ti prego! Ti prego! Tess! Tess! Penso che mia figlia sia posseduta dalla tua. Chi sei tu? Chi sei tu? Chi sei tu? Non mi fermerò Chi sei tu?